Ciao a tutti, finalmente dopo una settimana torno a fare video e oggi voglio parlarvi di un'utile funzione di Adblock Plus che vi permetterà di bloccare tutte le pubblicità presenti in Facebook andiamo subito a vedere come fare grazie al sito Gechissimo che spiega il tutto innanzitutto dovrete scaricarvi ovviamente l'estensione che trovate per i vari browser ad esempio per Chrome, per Firefox e altri dopodiché una volta installata dovrete andare in aspettate, è esposto la mia posta dopodiché dovrete andare in questa pagina qua una volta che è installato e scegliere il tipo di lista di blocco da aggiungere in Adblock Plus e ci sono tre tipi uno che blocca tutte le pubblicità presenti in Facebook sia sidebar che newsfeed quindi sia la pagina principale che la parte laterale altrimenti solo la sidebar quindi la parte laterale oppure solo la newsfeed quindi diciamo la pagina principale quindi con tutte le pubblicità che possono essere presenti tra i vari post dei nostri amici e delle pagine che seguiamo voi semplicemente dovrete cliccare su Add e come vedete vi comparirà conferma l'aggiunta della sottoscrizione di filtri quindi prendete un filtro che vi permette proprio di bloccare a seconda del tipo di filtro che sceglierete o tutto o una parte o un'altra parte da bloccare della pubblicità penso che questo possa essere utile per coloro che ne fanno molto uso di Facebook e quindi Adblock Plus è la soluzione ideale per questo genere di pubblicità invasiva che sinceramente non credo che piangeranno le persone che vogliono evitare Adblock Plus è semplicemente questa è una funzionalità utile e che la consiglio vi ringrazio per l'attenzione un saluto a Two Horizons e al prossimo video